Musica Terza vittoria di fila in campionato, una in coppa. L'Iblea 99 supera per sette reti a uno la stella rossa di Santa Tecla e si conferma una delle squadre più forti nel campionato di calcio a 5 di Serie C2. Sì, stiamo cercando di dare il nostro meglio anche oggi, soprattutto dopo un inizio un pochettino dove abbiamo dato tutto. Il portiere è stato bravo che ha parato tutti i nostri attacchi, però poi abbiamo subito un gol e da lì siamo ripartiti e abbiamo fatto la nostra partita. Abbiamo ottenuto questi tre punti che in classifica ci danno un bel balzo avanti. Restiamo in testa vedendo gli altri risultati della giornata e avanti alla prossima in trasferta vediamo. L'Iblea 99 è una delle squadre da battere in questo torneo? Rispetto all'anno scorso ci siamo attrezzati un po' di più e cerchiamo di puntare in alto anche quest'anno, di cercare di fare un bel campionato anche in coppa e vediamo com'è il da farsi. Sì, quest'anno l'Iblea si presenta veramente forte, il lavoro di scaduto degli anni precedenti si è sicuramente visto. Alla squadra già solida e compatta degli anni precedenti si sono aggiunte quattro pedine fondamentali tra cui Puglisi, Bascetto, Rinzivillo e Matarazzo. L'Iblea continua a vincere, questa è la quarta vittoria di fila che dà sicuramente morale, però adesso procediamo con umiltà e pensiamo alla prossima partita contro il Nicolosi in trasferta. Beh, diciamo che sicuramente è stata una prestazione direi più che ottima da parte della mia squadra e anche se il pallone è strano, nel primo tempo potevamo chiuderlo in vantaggio con molti più golle, al ventitresimo eravamo sotto 1-0, però poi c'è stata una grande reazione da parte dei ragazzi che hanno raccolto con molto merito direi i frutti di quello che hanno creato. Tre golle, una gran bella vittoria. Sì, siamo felici, quest'anno abbiamo dato continuità a un gruppo che comunque da quattro anni suda e si allena insieme e quindi comunque quest'anno stiamo raccogliendo i frutti, è ancora presto ma stiamo lavorando bene, oggi tre golle, sono molto felice ma il gruppo è solido e la squadra cerca di portare a casa il risultato. Grazie a tutti.